Il campionato La risposta di Sagella Scorupa per Ortolani Senza Nuro 2-0 La ricezione di Meners Sulla testa di Scorupa Che chiama in causa proprio l'olandese Una martellata in parallela Tittando il colpo in diagonale Rimane battuta Ortman La ricezione di De Gennaro Grava a togliere a Silla Gennari all'indietro Daigonu in mezzo al muro Brava a Egonu Accelera un po' il colpo questa volta Recessione di Silla Gennari per Ocbog Palla questa volta troppo alta Non può forzare la statunitense Allora la risposta di Meners È una gran diagonale Quella dell'olandese volante Dipesa di Hill Poi Egonu in pallonetto A segno Paola Egonu E certo doveva prendere la palla alta lei Però non puoi farci niente Non è neanche un pallonetto È proprio un tocco La palla torna di là Ci sarà un'altra possibilità per Conegliano Ancora Ocbogo Che muro Di Flor Cimenez a dire no Terza stagione in Brianza Per lei la ricezione di Silla Poi Egonu sopra il muro Va a sfiorare Erman Va a forzare su Hill Gran ricezione del Gennari Poi Egonu dalla seconda linea Finisce qua il primo set 25-22 Conegliano Con l'aiuto del nastro La ricezione di Gennari E poi ancora Boku Vogliamo dire qualcosa Su quello che abbiamo visto Barocchiale per la stessa Meners Però a piazzarla C'è Silla in copertura Hill Con un passo di troppo nero in corsa Allora la risposta di Meners In pallonetto delizioso Di Flor Cimenez La ricezione di De Gennaro Poi Gennari Ha una mano La manda subito di là La ricezione di De Gennaro Sulla testa di Gennari Poi Egonu Con un passo laterale Nella rincorta Ricezione di Silla Gennari Ancora a prepartita Ives si mette in proprio La ricezione poi Scorruppa per Ehrman Passa la pasta Dalla centrale belga Si chiude con l'Ace di Gennari 25-19 2-0 Conegliano Un set che stai dicendo Non ha avuto nulla da dire Nella difesa di Gennaro Poi Danesi La palla non passa Ma si salva Monza C'è però una free ball Per Conegliano La chiude folia al centro La battuta di Gennari Ricevuta da Ortman Ma un errore Silla non pulisce Per il grande intervento In difesa di Mayners Portolani L'appoggia di là Free ball per Conegliano Parisi intanto si gira Verso la panchina Scorruppa in bagger Parocchiale per il pallonetto Di Ortolani Verso l'esterno A segno A Mayners ad attaccare Difesa il pallonetto Di Egonu Passa in mezzo Dalle mani di Danesi Eccola qua Isabella Di Giulio Allenata da Parisi A Scandici Gennari prova a mettersi In proprio attenta Parocchiale Allora Il pallonetto Molto angolato Di Ortolani Capisce Tutto a Gennari E poi arriva La diagonale Pazzesca Di Paola Iguoro Difesa La ricezione di Silla Poi fu lì al centro Murata La difesa Soprattutto di Squarcini La risposta di Mayners Non chiude il colpo Palla out Non c'è tocco del muro Finisce qua dunque La partita 3-0 Conegliano Conegliano